Seconda parte di Basket Time, entrerei un po' nelle pieghe di quella che possiamo definire un periodo di crisi della menzana, questo dicono i risultati, probabilmente quello che si vede al di là degli aspetti tecnici sui quali giustamente ci relazionava poco fa Andrea Monciatti è anche la mancanza in questa fase di una leadership non soltanto tecnica ma proprio umana anche all'interno del roster bianco-verde, non so se sei d'accordo e poi magari chiediamo ovviamente anche a Andrea. Lui che vive la realtà della squadra, questo ce lo può confermare forse, però la sensazione è oggettiva, anche ieri senza andare specificamente sui nomi, visto che è stato fatto, però hai detto perfettamente della prestazione molto in colore di Ibanx che dopo i 38 punti contro Cagliari ha bissato la partita di Biella, un po' non tutelato dagli arbitri, secondo me sei anche un po' in nervosito ed non è mai entrato fondamentalmente in partita. Meglio Turner, però va detto e questo si ritorna al discorso e faccio di te, Turner ha giocato una buona partita ma si è spento, si è rissato nella parte comunque decisiva della gara. Per cui se noi cercavamo come è la logica purtroppo del campionato da due dagli americani un ruolo attivo e soprattutto di guida, purtroppo questo ci manca. Gli italiani purtroppo in questa logica spesso si abitano a aspettare sempre che siano gli americani a risolvere le situazioni, è inevitabile che poi dopo trovare da loro soluzioni non è facile, anche perché, ed è il discorso che prima ho fatto con Andrea, ho visto i giocatori ieri rifiutare clamorosamente anche dei tiri e questo non può succedere. Le qualità se non ci sono è ovvio che non si creano da lì al momento, però la voglia di fare le cose ci devono essere e questo è un grosso problema perché nessuno in questo momento si prende la briga di smuovere una situazione. Andrea, un leader non si costruisce dall'oggi al domani come non si costruisce un gruppo all'oggi al domani, probabilmente abbiamo anche un gruppo di giocatori che nella loro carriera fino a questo momento non hanno avuto un ruolo del genere, probabilmente andrebbe visto il curriculum di giocatore per giocatore e vedere laddove qualcuno si è caricato, come si dice in Italia, la squadra sulle spalle. Il riferimento all'Italia è voluto perché parliamo soprattutto dei due statunitensi. È vero che ancora non è venuto fuori una leadership in campo e sicuramente i risultati negativi non lo aiutano perché è normale che sia così, ma allo stesso tempo è il momento che dopo dieci partite, quindi già un terzo del campionato, ormai la squadra si conosca, ormai la squadra abbia delle consuetudini e debba trovare per forza dei punti di riferimento nelle partite. È quello poi che ti dà la possibilità sia di recuperare i parziali che di resistere agli urti e alle difficoltà che si propongono. In particolar modo in trasferta perché sappiamo bene che comunque è più difficile rispetto alle partite casalinghe. I nostri due americani sono stati costanti nel rendimento perché alternano delle buone prestazioni offensive e comunque in generale di presenza sulla partita a prestazioni sicuramente più negative. L'esempio è di Turner che è stato a volte protagonista in attacco ma non è mai riuscito in trasferta a essere decisivo perché anche i punti di ieri sicuramente sono stati importanti, però comunque non sono risultati decisivi per la partita in quanto le giocate importanti non sono andate. Lo stesso Ibanx che veniva da una prestazione offensiva incredibile, forse anche difficilmente ripetibile perché non sempre si può fare tutti i canestri affatto contro Cagliari, anche lui devo dire che sta trovando un po' più di difficoltà in trasferta e deve abituarsi ben presto anche a un livello fisico e a un livello di gioco, determinato anche dalle scelte arbitrali ovviamente, che è sicuramente molto diverso rispetto a quello in cui lavorava fino all'anno scorso. Devo dire che è molto disponibile da questo punto di vista, in lui si vedono grandi miglioramenti come era normale appunto per il suo pregresso, però poi come dicevate prima giustamente la presa di coscienza delle proprie responsabilità deve essere di tutti i giocatori perché ognuno ha una piccola responsabilità che può essere un tiro, che può essere appunto una difesa che per tutti è fondamentale e anche appunto andare oltre agli errori perché sappiamo che i nostri giocatori italiani in particolare hanno tutti la potenzialità di essere protagonisti in questo campionato, anche se non la stella della squadra, però possono essere protagonisti perché hanno le qualità per farlo e ci dobbiamo arrivare. Anche perché stamani leggevo sul blocco di Giuseppe Nigro, palla al cerchio, c'è una considerazione interessante, parla dei numeri, della distribuzione dei tiri e di punti, la considerazione interessante è che per esempio ieri Saccaggi ha fatto una buona partita offensiva però è andato probabilmente al di là di quelli che dovrebbero essere sulla carta i possessi offensivi da lui gestiti e questo significa che probabilmente c'è un cortocircuito in qualche altra zona del parquet, no Andrea? Sì, devo dire che l'impegno e la determinazione che mette Lorenzo in tutte le fasi della partita a volte va oltre quelle che sono sulla carta, è difficile dire che un giocatore per giocare bene deve fare tot tiri o tot passaggi, poi c'è la partita, poi c'è quello che ti lasciano gli avversari, quello che riesce a fare un giorno piuttosto che un altro e quindi ti sicuro pur nelle sconfitte le prestazioni di Saccaggi anche offensivamente sono sempre state abbastanza continue, questo è una testimonianza del fatto che un giocatore riesce anche nei momenti difficili della partita a trovare qualcosa per la squadra e per se stesso ma in realtà è un problema più generale ovviamente perché non è tanto importante vedere chi fa i punti ma quanti se ne fanno alla fine rispetto agli avversari. E soprattutto c'è un problema che mi sembra sempre più evidente, l'aspetto speculativo degli avversari, nel senso che alzandosi il livello di difficoltà di qualche giocatore, il livello di battezzo di alcuni uomini sta diventando una prassi purtroppo continuativa e chiaramente quando due, uno o due giocatori all'interno del quintetto hanno difficoltà a prendersi delle responsabilità, soprattutto in attacco, è evidente che c'è meno spazio per gli altri, soprattutto per quelli più pericolosi, su cui si concentra la difesa. Certo, questo è vero, le scelte fanno parte in questo campionato soprattutto, che è un campionato dove i valori tecnici tra i giocatori sono abbastanza simili, anche se chiaramente spesso le squadre hanno il maggior talento negli americani. Però è normale che ci siano delle scelte da parte degli avversari, ieri per esempio la difesa di Treviglio era un po' più aggressiva su Turner e Ibangs, per esempio si sono aperti tanti spazi per Simonovic che è stato bravo a sfruttarli, allo stesso tempo anche gli altri giocatori hanno avuto delle possibilità, quel discorso anche un po' di togliersi la scimmia ridosso, di risultati negativi, di prestazioni offensive, magari non sempre eccezionali, è anche una sfida, è anche una sfida e un giocatore deve riuscire a vincere perché crede nel suo lavoro, perché si allena tutti i giorni per fare un canestro e ovviamente non deve subire la scelta dell'altro ma deve cercare appunto di aggredirla con l'auscienza a posto e si può anche sbagliare perché fa parte dello sport ma bisogna sempre avere un atteggiamento aggressivo in tutte le situazioni. Alessandro, alla luce di tutti questi piccoli, grandi problemi che stanno caratterizzando i primi due mesi della stagione cestistica della Mezzana, sta serpeggiando una certa preoccupazione nell'ambiente della tifoseria? Sì, è innegabile, una certa preoccupazione, ribadisco anche perché eravamo partiti con degli obiettivi almeno dichiarati abbastanza ambiziosi, alla decima di campionato ci ritroviamo al penultimo posto, soprattutto non vediamo, dopo un cambio di allenatore discutibile, diciamo che ci ha fatto toccare un po' il fondo. Quindi c'è sicuramente tanta preoccupazione, io spero che in tutti gli ambienti, in società, nel roster, nello staff tecnico ci si renda conto che si sta realmente rischiando un'annata di grandissima sofferenza, invece di guardare davanti bisogna necessariamente guardarsi alle spalle perché il rischio di ritrovarsi invischiati fino all'ultima giornata nella lotta per i play-out o per evitare l'ultimo posto a mio avviso è seria e è molto grossa. L'atteggiamento fuori casa non induce a pensare che questa squadra almeno fino ad oggi possa cambiare all'improvviso e andare a cogliere dei successi fuori casa è difficilissimo. Il fortino dovrebbe essere il palasclavo, palaestra chiamiamolo come vogliamo e anche lì purtroppo abbiamo rischiato grossissimo con Napoli, abbiamo perso con Cagliari. Giovedì c'è una partita a mio avviso importantissima, dovessimo perdere con Latina che ieri ha presentato due americani che in coppia hanno segnato quasi 60 punti comincerebbe veramente a essere davvero drammatico sportivamente parlando. I drammi veri della vita sono altri ma qui si parla di sport per cui credo il termine drammatico sia azzeccato. Della partita contro Latina ne parliamo nella terza parte di questa puntata di Basket Time, ci proiettiamo un po' più avanti e la notizia l'avevamo data in anteprima la settimana fa sullo Sport Day del 17 dicembre, questa iniziativa che vedrà il palasport occupato prima dalla palla a volo alle 3 e mezzo del pomeriggio l'Emma Villas che gioca contro credo Grotta Zolina e poi a seguire alle 20 e 30 con tutte le operazioni di smontaggio del campo della palla a volo e varie altre cose giocherà la menzana contro Rieti. C'è stata la conferenza stampa di presentazione dello Sport Day e vediamo l'intervista che Tommaso Mandriani ha realizzato all'allora presidente della Sound Reef menzana Guido Bagatta, poi spendiamo due parole anche sui fatti relativi al club. questa è un'idea nata per caso durante una partita di Coppa Italia di Palavolo con Gianmarco Bisogno e il presidente, eravamo lì a chiacchierare prima del primo tocco della partita e allora io ho detto ma perché non facciamo una cosa insieme per Natale? Abbiamo individuato la giornata, noi avevamo una partita casalinga con Rieti che tra l'altro ringrazio moltissimo perché ha accettato di posticipare alla domenica sera, cosa non facile per poi dover tornare comunque a Rieti e non è dietro l'angolo, loro avevano una partita che hanno anticipato la domenica ed è venuto fuori praticamente il tutto. Da qui in poi si sono unite e spero si uniranno ancora e qui lancio un appello a Virtus e Costone, so che ci sono tra senesi un po' di lotte intestine come fossero delle contrade però in questo caso credo e penso che dovrebbero unirsi tutte le forze, volley, basket, anche altri sport, il baseball, chissà, anche sport singoli come l'atleti che run in via dicendo, insomma tutti insieme appassionatamente per una giornata che deve essere. Lo sport natalizio a Siena, il biglietto costa niente, 10 euro per tutti e si vede tutto, spero di trovare molti bambini, molte famiglie e che Siena ritrovi un po' lo spirito di una volta perché Siena ha bisogno di manifestazioni di questo tipo, non solo sportive in generale per recuperare quello che c'era dieci anni fa. Ci sono magari un po' meno soldi adesso però c'è, credo, lo spirito di un tempo rimasto, anzi deve aumentare per cercare di supplire appunto alla mancanza di benzina. Siamo più ecologici, abbiamo un altro tipo di benzina, la benzina del pensiero del cuore. Tra l'altro si tratta di due squadre che potremmo dire quasi accomunate un po' dal fatto di vivere una situazione simile in quanto la menzana come l'Emma Villas ha dovuto cambiare la guida tecnica. Sì, abbiamo anticipato un po' loro noi, io non so molto di pallavolo, mi è stato spiegato che problemi avevano loro, noi avevamo un problema proprio solo di chimica perché potevamo disporre di un ottimo allenatore come Giulio Grigioli che credo che avrà una gran carriera al di fuori di Siena, che li farebbe anche bene perché profeta in patria è un po' dura, peraltro poi Matteo Meccacci che l'ha sostituito ha lo stesso problema perché essendo senese anche lui, però comunque Giulio per certi versi non riusciva a fare le cose che ha nella sua faretra e si esprimerà da altre parti, Matteo spero che con il lavoro che ha impostato in queste due settimane dove noi non abbiamo giocato per il discorso nazionale possa ricavare il meglio. Noi siamo indietro, abbiamo vinto tre partite su otto ma ci sono mille e mille possibilità per recuperare, il campionato è lungo, a parte la prima posizione dove Casale sta volando via con nove vittorie e zero sconfitte, un po' come Brescia nella serie maggiore, tutto è recuperabile anche per le final eight di Coppa Italia. L'Emma Villas ha problemi simili ai nostri, ha un vantaggio che deve andare in A1, nel senso buono del termine e andando in A1 rimarrà sotto lo stesso regime di dilettantismo, quindi non ha l'incubo che capita per le squadre di basket che vanno nella massima serie a dover cambiare la ragione sociale e triplicare i costi. Fortunato il volley, sfortunato il basket è una cosa che poi io prima o poi vorrei chiarire con gli organi competenti, con il CONI e con la FIP per comprendere come mai c'è questo problema enorme per noi e non per la pallavolo che spero rimanga così, non è che io voglio che la pallavolo diventi professionistica, vorrei che ci fosse un aiuto per le squadre di basket. Bene, rientriamo in studio, ovviamente l'intervista era stata realizzata prima della trasferta a Treviglio e durante la pausa, o quanto meno è stata una pausa di lavoro, dicevo di Guido Bagatta, in quel momento presidente a tutti gli effetti, poi il giorno dopo si è dimesso da presidente e consigliere, però è rimasto presidente onorario con conferma, scrive il comunicato della menzana basket, 1871 delle deleghe a sovrintendere la gestione sportiva della prima squadra, incluse le pertinenti funzioni di marketing e comunicazione che poi devo dire sono le cose che sicuramente gli competono e gli riescono meglio. Al suo posto ad interim, così si è capito, Francesco Bertoletti, poi vedremo quello che succederà nelle prossime settimane perché probabilmente ci sarà un rimuoscolamento di carte all'interno del club, di questo parleremo anche con Alessandro Lami subito dopo la pubblicità.